Ciao ragazzi, oggi vi presento Dream, che è la nuova palette illuminante della nuova marca del Sephora, Anastasia Beverly Hills. Sono 12 mesi dall'apertura e sono 4 grammi di prodotto ogni cialda, in tutto sono 6 cialde. Questi sono i colori, li potete anche mischiare fra loro, questi. Questa è Wish, e la cialda è marroncina però in realtà sembra bianco. Poi Unicorn, la cialda e rose invece fa i riflessi violetti. Magic invece è grigio, rimane grigio, però guardate quanto sono luminosi. Poi Eterial, che è lilla, vede che fa i riflessi bianchi. Sunshine è giallo e fa i riflessi gialli, giallo verde. Poi c'è Regal, che fa i riflessi aranciati. Queste sono tutte, guardate quanto sono meravigliose. Adesso voglio provare a mischiarle un po'. Vediamo un po' quello che mi hanno detto. Questo è Wish più Unicorn. Questo è Magic più Unicorn. Eterial e Unicorn. A me questi mi sembrano uguali. Proviamo a fare. Eterial, con Sunshine. E Regal e Sunshine. Più o meno sono simili. Questa è una Limited. Mentre invece le altre palette... Bene, vi ho fatto vedere tutto. Non c'è più niente da vedere. E non ho neanche altre novità. Quindi un saluto e alla prossima. Grazie.